Nel marzo del 2008 il governo degli Stati Uniti ha emesso un'ordinanza d'emergenza per isolare un edificio a Los Angeles, California. 48 ore dopo un Asmat Team è stato inviato per investigare nell'edificio posto in quarantena. Le autorità hanno negato di essere a conoscenza di quanto accaduto. Dei residenti non ci sono state più notizie. Cosa è stato? Non c'erano spiegazioni. Non c'erano prove. Fino ad ora. C'è una videocazzetta all'interno. I vigili del fuoco stanno iniziando il salvataggio. La polizia dice che vive sola, non è molto solito. Siamo qui per aiutarla. Signora... Oddio! Oddio! Dobbiamo uscire da qui o ci uccideranno tutti! Da questa parte! Chiudila! 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 La luce! La luce! La luce! È una condotta! Al mio Dio! Gio! AAAAAAAH! AAAAAH! AAAAAH!